Condanna all'ergastolo per Danny Pruscino e a 25 anni di reclusione per Katia Reginella. Dopo una lunga camera di consiglio, è questa la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Macerata per l'omicidio del piccolo Jason, il bimbo di due mesi ucciso dai genitori nel 2011 e il cui corpicino non è mai stato ritrovato. Per entrambi i coniugi, il pubblico ministero Cinzia Piccioni aveva chiesto la condanna al carcere a vita. La Corte ha invece riconosciuto a Katia Reginella, affetta da parziale vizio di mente, le attenuanti generiche con l'esclusione delle aggravanti. Danny Pruscino dovrà restare per sei mesi in isolamento diurno. Jason, nato nel 2011 all'ospedale di Teramo, è sparito dalla sua casa di Folignano in Ascoli Piceno nel luglio di tre anni fa ed era nato da una relazione che Katia Reginella aveva avuto con un altro uomo. Pruscino l'aveva riconosciuto dopo il matrimonio con la donna. La coppia, che ha sempre vissuto in uno stato di profondo degrado psicologico e materiale, prima di Jason ha messo al mondo altri due figli, un bambino e una bambina, entrambi vittime di gravissimi maltrattamenti, tanto che il Tribunale dei minori li ha da tempo affidati ad altre famiglie. Per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Jason, Danny e Katia si sono sempre accusati a vicenda in una ridda di confessioni e ritratazioni che si è trascinata fino al dibattimento in aula. Secondo la prima versione di Katia, il marito avrebbe sbattuto il bambino contro un divano perché infastidito dal suo pianto insistente. Danny, che ha confidato ai compagni di Cella di essere lui l'autore del delitto, ha sostenuto di aver fatto tutto insieme alla moglie o con il suo consenso. I poveri resti di Jason sono stati cercati in vano per tre anni, prima nei boschi attorno a Folignano, successivamente all'estero, poi di nuovo in Italia, da ultimo fra le aiuole del cimitero di Folignano. Del bimbo però nessuna traccia, di lui resta il fermo immagine di un filmato girato dal padre adottivo subito dopo la nascita, mostrato in aula dal PM in una delle ultime udienze.